ciao bentornati nella tarish zone allora argomento recensioni positive di amazon questa volta parliamo di un argomento non inerente al gaming ma che merita attenzione perché quando li accingete a fare un acquisto su amazon la prima cosa che andate a guardare ovviamente sono i feedback è naturale sono nati per questo questo per avere un primo contatto con il prodotto perché è chiaro che si compra al buio avete solo una foto davanti a voi vi potete avvalere solo dei feedback di altri utenti e della prova pratica al momento che ricevete il prodotto per questo la politica dei resi di amazon è così efficiente e si può restituire un prodotto anche dopo 30 giorni lo sapete anche io utilizzo nei miei video o i link affiliati con amazon quindi se acquistate qualcosa cliccando una piccola percentuale va alla tarish zone quindi sicuramente noi siamo la tarish zone è alleata con amazon fate bene ad acquistare su amazon non è quello il punto però acquistate bene cercate di evitare le fregature e adesso cercherò di darvi dei buoni consigli basati anche sulla mia esperienza io non ho interesse che poi andiate ad acquistare determinati prodotti sicuramente ho interesse che acquistate su amazon sicuramente perché sono affiliato ma no che andate andiate ad acquistare determinati prodotti rispetto ad altri io voglio che voi acquistiate prodotti buoni che vi soddisfino e purtroppo non potete basarvi ciecamente sui feedback perché appunto ripartiamo dall'inizio voi cercate un prodotto su amazon lo trovate il primo contatto ecco i feedback andate a guardare i feedback e quelli che vi colpiscano maggiormente sono quelli positivi è chiaro e sono anche quelli che vedete per primi guarda caso è difficile che vediate una recensione da una stella sapete amazon ci sono recensioni da una cinque stelle verrete subito inondati da recensioni cinque stelle quello è abbastanza classico soprattutto se andate a a cercare prodotti economici perché il meccanismo è questo si va a cercare un prodotto per esempio cuffie auricolari bluetooth o un telefono uno smartphone di fascia bassa dico le strike le entrate più che possono essere più popolari nella tecnologia no mettiamo le cuffie andate a cercare una cuffia bluetooth subito l'occhio quando andate nella lista prodotti cade tipo su offerta a tempo amazon choice tutti quei badge che comunque vi da vi danno catturano l'attenzione l'offerta a tempo quella che ne cattura di più perché sono appunto offerte di amazon a tempo potete trovare magari un prodotto a 25 euro anziché 30 solo per un determinato giorno quindi quelle sono veramente buone quando c'è l'offerta a tempo andate subito a dare un'occhiata sono il primo a consigliarlo e guardate la differenza di prezzo perché veramente le variazioni di prezzo su amazon sono incredibili io vi dico che ho cercato una cuffia sennheiser per non so quanto un modello che costa 180 euro ma ve lo dico proprio onestamente è una cuffia da 180 euro amazon avuta 92 euro per un periodo non ce l'aveva direttamente disponibile però tu potevi prenotare a 92 euro immagino siccome variazioni di prezzo per chi ha già pagato sono molto improbabili chi aveva prenotato la cuffia a quella cifra sicuramente l'ha guantata a 92 euro ed era una cuffia da 180 io non ho potuto prenderla perché ero al mare e non avrei potuto ritirarla tornato dal mare l'offerta era svanita e quella cuffia è rimasta a 180 euro non si è più smossa di lì quindi le offerte a tempo non sottovalutabili anche perché poi con i casini della pandemia del covid è saltato il prime day per cui non è che le offerte lampo o imperdibili su amazon siano all'ordine del giorno in questo periodo quindi quando capitano fate bene a darci un'occhiata e questo è il primo step il secondo step si guarda i feedback quindi prodotto se si parlava degli auricolari bluetooth trovate un modello offerto a tempo a 25 euro e poi guardate feedback feedback se soprattutto il prodotto ai cinesi ed è di fascia economica lo vede già dai nomi perché una cuffia che si chiama you wow probabilmente non sarà svizzera ma questo non per dire io oppure ho fatto promozione di prodotti cinesi non è che cinesi uguale schifo assolutamente ci sono prodotti cinesi anche nella fascia economica assolutamente da non perdere però purtroppo il mercato è così vasto che non tutti sono imperdibili e quello discorso la qualità cambia tanto insomma tognava il nostro auricolare bluetooth guardate una caterva di recensioni positive e siete invogliati ovviamente ad acquistarlo come è capitato anche a me non con delle cuffie bluetooth ma un altro prodotto poi me lo so ritrovato in mano e no direi proprio che non ci siamo non c'eravamo e sono rimasto deluso perché i feedback per questo prodotto erano tanti e positivi non ho pensato purtroppo e quindi vi consiglio di fare questo di andare a cercare anche i feedback negativi finiamo fare un confronto perché ora io non sto dicendo che tutti i feedback positivi sono i malafede o fasuli però comunque tenete conto che purtroppo c'è una brutta tendenza da parte delle case produttrici di acquistare recensioni positive su amazon a scapito di amazon stessa perché i feedback sono nati per i feedback sono nati come un aiuto che la community da agli altri utenti è la passaparola dell'amico mi dici un po' quella camicia quelle scarpe che hai preso anche te come sono validissime perché ti deve dire una falsità perché dovrebbe dirti una menzogna se sei trovato bene ti da un consiglio amico e ti da un riferimento questo per questo era nato il feedback di amazon però purtroppo quando scatta business sapete diventa complessa la faccenda e quindi hanno acquistato aziende purtroppo hanno acquistato delle recensioni cioè offrivano i prodotti gratuitamente agli utenti in cambio di recensioni positive che quindi non necessariamente rispecchiavano la realtà perché magari prodotto era strepitoso magari no ma comunque l'utente avrebbe fatto una recensione positiva quindi una brutta storia le recensioni positive non si possono distinguere da quelle se tu magari le leggi con attenzione quelle fatte peggio tu puoi ma insomma della certezza non avrai mai quindi bisogna stare attenti soprattutto le fanno sempre meglio perché sono veramente dei grandi professionisti delle recensioni che scendono nei dettagli sono ricche di particolari quindi sono sempre più difficili da individuare rispetto a quelle genuine però un occhio attento con un'analisi un po approfondita ci si può fare però comunque quello che voi dovete fare non dovete analizzare le recensioni positive perché davvero ci possono essere quelle fasulle o quelle del davvero di utenti entusiasti che a cui è piaciuto quando cercate il prodotto dopo aver letto le recensioni positive andate a cercare feedback negativi perché di certo amazon li cancella andate a cercare una stella perché sembrerebbe una cosa un po po deviata ma non lo è andate a cercare una cartella anche qui dovete stare attenti perché ci sono anche quelli che è brutto però come ci sono anche su su altre piattaforme ci sono anche su amazon ci sono utenti che mettano voti bassi per abbassare della concorrenza per abbassare la qualità del prodotto purtroppo perché su amazon c'è c'è il bolino acquisto verificato ma è possibile rilasciare un feedback anche se tu hai acquistato da un'altra parte quindi io non escluderei nemmeno che ci siano utenti che vengono pagati per acquistare il prodotto e fare un feedback negativo perché può capitare veramente di tutto ragazzi è un oceano è un oceano molto pericoloso quindi voi andate a cercare i feedback negativi e leggete che cosa scrivono perché un feedback negativo è molto più sgamabile rispetto a un positivo perché a parte non dico che sia da escludere però è molto difficile è più facile che le aziende vada ad acquistare feedback da 5 stelle piuttosto che da una anche contro la concorrenza quindi voi andate a guardare le recensioni da una stella e leggete che cosa scrivono perché lì spesso c'è la realtà se leggete 20 recensioni negative da una stella che iniziano tutte nella stessa maniera cioè accidenti a quando mi sono fidato dei feedback positivi allora dovete dovete stare attenti a quel punto può essere quell'acquisto lì può essere pericoloso può essere una trappola se vedete un sacco di feedback negativi che iniziano dicendo ma queste tutte queste recensioni positive che cosa hanno valutato li dovete stare attenti perché se lo dice uno e due tre quattro cinque dieci utenti iniziano tutti così significa che come me hanno acquistato il prodotto basandosi su sui feedback positivi e poi ci sono ci sono rimasti bruciati quindi state attenti andate a guardare i feedback da una stella e guardate anche quelli da cinque ma guardate anche quelli da tre fate una cara dei dei feedback guardate anche quelli da tre a volte tre stelle due stelle a volte anche lì si possono scoprire delle realtà sorprendenti ma voi guardate sempre i figli negativi e fate una proporzione con quelli positivi e così vi farete l'idea del prodotto io dico anche così perché come ha detto in apertura amazon ha una politica dei resi strepitosa veramente strepitosa cioè voi potete acquistare un prodotto non vi piace non siete soddisfatti fate il reso loro impacchettate lo restituite e loro vi rimborsano i soldi lo usufruito anch'io ci mancherebbe altro è un diritto del consumatore e fa bene a usufruire ci sono state persone che l'hanno abusata hanno fatto un business ci hanno fatto un sacco di soldi e gli hanno chiuso l'account ma questo è un altro discorso un utente che utilizza una maniera onesta un servizio che è legittimo che dispetta di diritto non verrà mai ripreso da amazon ma state tranquilli cioè se un prodotto non vi soddisfa fate bene a sfruttare questo servizio qui però se state un po attenti a questi consigli che vi do non vi ritrovate né alla scorciatura di dove aspettare il corriere o fare la spedizione voi per fare il reso e poi si riduce un po questo circuito dei resi per cui amazon i resi non è che può buttarli via deve rivenderli in qualche maniera no ora io non voglio fare gli interessi di io voglio fare anche i miei interessi perché amazon rivende nel warehouse per esempio a me io vi dico la verità mi è capitato di acquistare prodotti che erano palesemente aperti lo riconosco anche dal cavetto il cavetto di fabbrica ha delle caratteristiche che tu non puoi riavvolgere un cavetto con la sua fascettina come fosse di fabbrica non ha quell'odore di plastica industriale cioè io lo capisco se un prodotto è stato aperto e purtroppo mi è capitato me lo sono tenuto perché prodotto funzionava non so magari l'utente precedente che l'ha restituito non gli piaceva ma non c'erano dei problemi di funzionalità l'ho tenuto però non ero felicissimo perché l'ho pagato i soldi miei non erano seconda mani i soldi erano 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 freschi erano nuovi e io volevo un prodotto nuovo e quindi mi è toccato un prodotto che è stato aperto da un altro che l'ha restituito io capisco anche amazon che prodotti non si possono buttare vanno venduti tanto comunque io avrei potuto restituire me stesso cioè io stesso fare il reso e quindi alimentare all'infinito questo meccanismo ma io non voglio che un'altra persona se li trovi come me un prodotto aperto e poi fa il reso e si continua all'infinito con questo giro e il patatone deve toccare sempre a qualcuno no cerchiamo se possibile di diminuire questo questo circolo vizioso se non è possibile no però se intanto voi seguite questi miei consigli sui feedback magari oltre avere meno scorciature riduciamo anche un po per il bene di tutti questo circolo vizioso dei resi detto questo grazie mi sono andato un po lungo spero che i miei consigli vi possono aiutare fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate mi fa sempre piacere e alla prossima ciao